Salve a tutti ragazzi, io sono Steve, del canale Andrevotto, e questo è Days Gone. Abbiamo finalmente parlato con O'Brien, Tucker ci ha affidato un'altra missione, ma visto che siamo in zona, inizieremo, se riusciamo a fare in fretta, a cacciare qualche animale per Boozer. Non credo così! One shot, one kill. Furiosi scomparsi. Io direi di lasciarlo e andare da attacker, mi sembra più... Devi trovare una persona per me. Una persona? Ok, cos'è successo? Dopo che hai portato Lisa, anche Larsen si è presentato con una ragazza, Rosa. Era uno scricciolo, ma abbiamo pensato potesse fare la sua parte aiutandoci con il canale di irrigazione. Ok, quindi, che cosa? È scomparsa! Era uscita in missione con Al-Kai e la sua squadra, ma l'hanno persa di pista al campo abbandonato della Nero. Sai quale intendo? Se non sbaglio ci sei già stato. Sì, sì, certo. Trova la Dicca. In quella zona sono stati avvistati molti randaggi e predoni. Dovesse finire in mano a una banda. Sì, sì, d'accordo. Vedrò cosa posso fare. Ehi, sono sul posto dove è stata avvistata la ragazza. Oh! 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 Porca merda, di nuovo. Se fossimo ben armati, secondo me non sarebbero neanche tantissimi. Sono molti, eh. Allora. Qui un salvataggio, lo provo. Se riuscissi ad avvicinarmi un po'. Sono veramente tanti, eh. Quindi non credo se lo faremo, però... Devo avere modo di provarci e capire. No, non basta. No, non basta. Lui, qui finirà. Grazie a tutti E' questa E' un sacco e lei Di qua Altre tracce di sangue Niente di buono Queste riconoscibili Lei potrebbe Potrebbe essere su? E' qui Sono qui per aiutarti No Sei con lei Vieni dal campo No, no, no Mi manda a Tucker Sì, sì Sprego incarichi per lei Facevo la fame Non seguivo gli ordini Quindi non mi davano da mangiare Beh è un campo di lavoro Ognuno fa la sua parte Non sono una schiava E non torno indietro Chiaro Preferisco morire qui fuori Ok, ok Ok Ok, vai Che gli diciamo allora Tucker Che è stata massacrata Oh no Che è stata massacrata Orizzare Non Au Torment Two Ok 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 It Ok 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 Posso ritavarne qualcosa? Eccoci, guardi. Guarda cosa ti cazzo. Scusa, non pensavo sarei rimasto fuori così a poco. Ha più freddo al mattino o sbaglio? Non direi, mi sembra lo stesso. Ehi, Buser, ho portato della carne, forse basta per qualche giorno. Ehi, dica, grazie amico. Non ho molta fame, la conservo sotto sale. Dopo tutto quello che abbiamo fatto, non mi lasciano andare. Questo è quello che ci ha preparato Buser, grazie Buser. Siamo pure mezzo morti. Ok. Allora, vediamo un attimo la prossima storia. E la iniziamo la prossima. Ok, dobbiamo andare a controllare l'ISA. E se ce l'ha data, come missione e sovrimpressione, penso sia una di quelle importanti. Anche perché dovremmo finire una di queste se vogliamo, sbloccarne altre. Potrebbe essere ispezionare l'unità della nero. Ho il ricordo. Per poi andare all'altro accampamento in cui si dovrebbero essere spostati. Per adesso direi che è tutto. E ci vediamo al prossimo video.